ATTENZIONE RAGA ENTIRAMO RAGA ENTIRAMO PIERO PIERO STOI RIPRENDENDO PIERO FISICO CHIS KISS IL BAMBINO OH CHIS KISS MA LO DEL FOFO Guardiamo Piero come si sta subendo la prima volta che c'è il ballo di fofo non parte mai sarà un segno ce l'è me lo fate il bagno se me lo vanno qua se me lo vanno qua io non c'è la resta comi che faccio ci buttiamo ora cascio mi tuffo io solo oh aspetta Albi dove la poso? e proviene qui l'acqua con le 3 le ultime che si sta subendo che si sta subendo cavalli vado in piedi vado in piedi oggi pomeriggio vinciamo buon pallo no cavallo e' facile e' ecco qua noi abbiamo preso quelle 3 dovete mettere le cose là perchè non c'è dai l'ultimo è 3 l'ultimo è 3 ragazzi non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ma va tutta la squadra oh tutta la squadra oh tutti in acqua ragazzi guardami 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 Guy però mi guardami ecco è morto ecco Ragazzi, davanti un coro, siamo noi, siamo noi, i ragazzi del Viti siamo noi, siamo noi. Ragazzi, davanti un coro, siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo noi. Grazie. 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 Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.